Don Gini, un costantone! Don Gini, un costantone! Don Gini, un costantone! Don Gini, un costantone! Vengono resi gli onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, lascia il luogo della cerimonia. Presidente, Presidente, onori al Ministro della Difesa! Presidente, onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore. Presidente, onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore. Presidente, onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore. Presidente, onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore. Presidente, onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore. Presidente, onori al Ministro della Difesa, Senatore Mario Mauro, che accompagnato dal Capo Ristrata Maggiore. Grazie a tutti. Vengono lesi gli onori finali ai labari delle associazioni combattentistiche d'arma che lasciano il luogo della cerimonia. Grazie. 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 Vengono resi gli onori finali al vice comandante della brigata Sassari, colonnello Maurizio Sulig. Grazie. 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 Bando della brigata meccanizzata Sassani, reparto di formazione a disposizione. Grazie, ben fatto. Reparto di formazione, fianco, ai! Reparto, ai! I reparti che hanno costituito il reggimento di formazione defluiscono dall'area della cerimonia. Reparto di formazione, attenti! Ammassamento! Bianco, destra! Destra! Dalla mia compagnia, adalti, ai! Applausi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti